Quindi nel problema della voce non è soltanto in gioco la possibilità di afferrare che cosa articola la voce e la rende significante, ma in gioco anche la possibilità di afferrare la natura umana, cioè il rapporto tra la fone animale e la voce umana, il logos umano. Come sapete noi nel corpo di un essere umano da nessuna parte possiamo fissare un passaggio tra l'animale e l'umano, tra il semplicemente vivente e l'umano, da nessuna parte nel nostro corpo noi possiamo situarlo. Nella voce invece questo passaggio è avvenuto, cioè nella voce è avvenuto qualcosa per cui la fone confusa degli animali, è diventata fone enartros. Nella voce quindi è avvenuto questo doppio evento fondamentale per la cultura occidentale, rendere significante la voce ma anche attuare un'articolazione tra il vivente e il parlante. Quindi capite bene che nel problema della voce è il luogo in cui si pone anche il problema della natura umana. Ogni indagine sulla natura umana non può prescindere da un'indagine sulla voce, sul passaggio tra fone e logos. Di recente un gruppo di studiosi dell'MIT ha avanzato l'ipotesi secondo cui il linguaggio umano sarebbe formato dall'unione di due elementi che nel mondo animale sono distinti. Un elemento puramente espressivo, come il canto degli uccelli per esempio, e un elemento appunto lessicale, come secondo questi studiosi nei primati troviamo primi elementi di un elemento lessicale, di la capacità di collegare un suono con un oggetto del mondo esterno. Ecco, quindi diciamo il linguaggio umano risulterebbe dall'unione dei due elementi che sono separati nel linguaggio animale, cioè il momento espressivo come il canto degli uccelli e il momento significante che in alcuni primati secondo loro è presente. Ecco, appunto, io radicalizzerei ancora questa dualità che in fondo corrisponde a quella di semiotico e semantico in Benveniste e appunto ricorderei che se questo è vero, però anche qui tra i due elementi non c'è un passaggio, sono incomunicanti. E quindi diciamo, costruendo in questo modo, cercando in questo modo, articolando la voce in questo modo, definendo se stesso come il vivente che ha il logos, l'uomo a suo tempo si è affidato a qualcosa, affidato alla sua definizione a qualcosa che però risulta inafferrabile. Cioè questa articolazione, ancora una volta, in cui è in gioco il divenire umano dell'essere dell'uomo, in questo passaggio, appunto, ancora una volta, è inafferrabile. Questo significa ancora che l'uomo, in certo senso, definendosi in questo modo attraverso il linguaggio così inteso come luogo di questa doppia articolazione, l'uomo è il vivente che, in un certo senso, ha scisso la sua natura in due frammenti, insieme strettamente articolati e però irridiucibilmente eterogeni. La lingua è da una fatta una costruzione oggettiva che gli uomini hanno separato fuori di sé e che si trasmettono, non endosomaticamente, ma esosomaticamente, culturalmente. E quindi devono, come dire, la lingua è qualcosa che può essere afferrato soltanto storicamente. D'altra parte, questa lingua storica non può essere afferrata se non c'è una voce che gli dia luogo, che la incarni, per così dire. E quindi se la natura umana è così difficile da afferrare, cioè proprio perché essa ha la forma di un'articolazione tra due elementi eterogeni, la cui relazione è altrettanto problematica di quella che abbiamo visto correre tra la fonè e il logos. Si tratta appunto, il problema appunto che, quindi in un certo senso, l'uomo è un essere che può accedere alla sua natura solo attraverso un'operazione storica. Se l'uomo si definisce attraverso il linguaggio, quindi l'uomo è un vivente che può accedere alla sua natura solo attraverso un elemento che è storico. E qui ancora una volta torniamo al nostro problema dell'antropogenesi, visto che in fondo è proprio l'antropogenesi che è in gioco in questa articolazione. Questo significa appunto ancora una volta che l'antropogenesi, il diventare umano del primate uomo, non è un evento che si è compiuto una volta per tutto in un certo momento, ma è un evento sempre in corso. L'uomo non cessa di diventare umano e non cessa di restare inumano, animale. Quindi l'antropogenesi non è un evento, è un processo storico sempre in corso. Per questo noi siamo ancora continuamente animali e continuamente in atto di diventare umani e di mancare. Questo è evidente, noi non facciamo che mancare il nostro diventare umani. E tutto questo appunto prende la forma di un processo storico, tuttora in corso, in cui sono coinvolte di volta in volta filosofia grammatica, logica, psicologia, cibernetica, informatica, perché appunto se il diventare umano degli uomini è ancora in corso, così anche il linguaggio in cui questo evento si compie, questo diventare umani è al luogo, anch'esso è un processo tuttora in corso e che non cessa di diventare se stesso. Cioè anche il linguaggio umano non è mai veramente linguaggio. Resta sempre ancora voce e tuttavia non cessa di diventare linguaggio. E questo significa anche che, e questa è la conclusione su cui vorrei fermarvi, è che il problema della voce, se in esso è in questione, come abbiamo visto, una definizione della natura umana, è un problema essenzialmente politico. Perché politico? Perché ogni volta ne va della decisione tra ciò che è umano e ciò che non è umano. Se la natura, se l'antropogenesi è sempre in corso e l'uomo non cessa di diventare umano, si capisce perché nella politica, nella forma della biopolitica, della modernità, è in questione proprio decidere ciò che è umano e ciò che non è umano. E alcuni uomini non sono umani, altri sono umani. Come la vita naturale dell'uomo viene ogni volta inclusa nella politica attraverso la sua esclusione, questa struttura che ho cercato di mettere in luce, la vita naturale dell'uomo è inclusa attraverso la sua esclusione nella forma della nuda vita, è inclusa nella politica attraverso la sua esclusione nella forma della nuda vita. Allo stesso modo, in qualche modo, il linguaggio umano si fonda attraverso un processo di inclusione-esclusione della voce nel logos. Ed è per questo che la natura umana, a cui noi abbiamo accesso solo attraverso questa complessa operazione storica, resta inafferrabile, così come le lingue necessariamente restano un elemento come è, continuamente in atto di nascere, trasformarsi e morire, ed è appunto per questo che la lingua non potrà mai assumere la forma fissa e astorica di una grammatica. Mi fermo qui.